Benvenuti nel gioco di società di Minecraft, sembra bellissima, è una mappa divertentissima, quest'oggi io e Fere ci sfideremo al gioco di società di Minecraft, e io non vedo l'ora, abbiamo appena imparato le regole, giusto per non essere impreparati, e siamo pronti a giocare. Vi farei notare che siamo anche in una sorta di casa di Minecraft, con però al centro il gioco di società. È praticamente un salotto con il gioco da tavolo sul tavolo del salotto, cioè ovviamente, quindi sembriamo delle persone che stanno giocando tra amici, anche se al momento siamo solo noi due, e magari però, se piace tanto, lo possiamo rifare con Marce e Mark, cosa ne pensi? Anche secondo me, Fere. Eh, secondo me è una bella cosa. Anche secondo me. Allora, tasto destro, come faccio a tirare i dadi? Perché effettivamente è l'unica cosa che non mi è chiara, Fere. Non ce l'ha spiegato, cioè ce l'ha spiegato. Tu ce li hai in mano, tu ce li hai in mano, quindi tocca a te. Tasto destro. Le ho tirati! Hai fatto quattro. Quattro. Uno, due, tre e quattro. La name tag dà un random event, Fere, devi fare tasto destro. Allora, sì, in pratica voi prendete la name tag, io ora premo... Oh no, no, lo dice anche a te. Uno, due, tre, ma dai, quindi ho fatto uno. Perché devo fare sempre le partezze più brutte del mondo? Vai. Eh, si chiama Surtuna. Hai ancora qualcosa in mano? Eh, ah, forse è questo. Ecco, perché lì direi che finisce il turno. Hai praticamente una spunta. Steffo, li hai tirati? Tre. Uno, due e tre e finisco nella scala che mi fa fare ale, ale. No, maledetto. Addio, Fere. Tiro il dado. Non si può neanche barare... Uh, aspetta. Undici! Ma si può fare undici? Sì, evidentemente... Perché sono due dadi, Steff, si può fare un massimo di dodici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Altra name tag. Ti prego, qualcosa di utile. Ti prego. Uh, vado avanti di tre caselle. Uno, due e tre. Allora, questa con la freccia, per chi se lo stesse domandando, mi vedi? Sì. In pratica non indica che devi andare avanti, ma semplicemente alla direzione del gioco da tavolo. Esatto. Lo volevo specificare che altrimenti sembra una freccia. E io volevo specificare che quando finisci nelle scale vai sempre in avanti. Se finisci in una ragnatella, torni indietro. Ma vince non chi arriva per primo alla fine, ma vince la persona che fa più punti. Quindi al momento siamo in un pareggio assoluto. Dadi, ho fatto... Dieci! Uh, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Però non è giusto. Quella scala ti ha teletrasportato dall'altra parte del mondo, Steff. No. Sì, due punti! No! Hai battuto il drago, ma quando? Ma quando? Però ho battuto il drago, ok? Sono un campione. Mi ignora. Devo parlare? Ho fatto due. Eh, è un bel numero anche il due. Ho fatto due. E sei capitata in una cosa nulla? Sì. Sono capitata in una casella blu, che se ti ricordi le caselle blu ti danno un punto. Ah, bene o male. Sì, sì, sì. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mamma mia, ho sfiorato una ragnatela. Comunque c'è da dire che questo gioco è... È bellissimo. Fantasmagorico, Steff. È bellissimo. Proprio dieci più, Fere. Sei. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Altro punto, però, eh? Altro punto. Altra casella blu. Non male. Due pari, Steff. Ricupero. Tanto non conta arrivare alla fine, ma contano solo i punti. Sei. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Punto per Steff, dato che eravamo in pareggio. Maledetto! Tiro i dadi, tiro i dadi. Cinque. Ma Fere, puoi fare un numero alto? Due, tre, quattro e name tag! Random event, vediamo cosa le accade stavolta. Vediamo, ti prego qualcosa di... No! Fere, schiva! Che paura. Ok. Sono già morta. Davvero? Sì. Ok. E quindi ho vinto io? Sì. Eh sì, ma no, 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 devo resistere, altrimenti... Altrimenti non mi dà punti! Sono morto. Non ci posso credere. Non ero preparato a questo minigioco, quindi mi ha un po' colto di sorve. È ancora più bello! Esatto, quindi un po' non ho capito niente di quello che è successo. Ah, un punto me l'ha dato, però. No. No, 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 non mi ha dato punti. Oh, cavolo. Fere, hai sbagliato? Non so perché ce l'avevo da ripremere, se vuoi. No, Fere, non volevo. Non mi piace esplodere. Allora, muori, 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 dai, che andiamo avanti. No, 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 io ormai ce l'ho vinto. Ma dai! Sono morto. Muoviti e muori. Fere, ti odio e non premerò più. Non so per quale motivo, vabbè. Sì, perché la puoi ripremere, se vuoi, però non mi sembra il caso quando ci fanno esplodere. Ma io ti volevo far esplodere di nuovo e volevo vincere. Fere, non mi piace esplodere. Il mio piano era quello, ok, turno completato, vai. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque. Name tag anche per me, quindi. Non un altro mini gioco. Ecco qua. Eccolo qua. Watch the silverfish. Cosa vuol dire watch? Morto. Cosa vuol dire watch? Non lo so. Che li devi guardare per schivarli? Ma non ho idea, guarda. Io li sto schivando, però non succede nulla. Eh, non so. Ah, Fere, devi resistere altri otto secondi. Ok. Corri, corri, corri. Eh, sto correndo, ma fanno male. Cinque, quattro, tre, due. Due, uno. Te l'ho fatta? Ho vinto. Hai fatto un punto. Perfetto. Vabbè. Eh, finisci il turno? Ok, perfetto. Io rimango sorpreso delle cose che accadono. Dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ecco, rinvovo. Eccolo, rinvovo. Ma dimmi te. Vai, Fere. Flight. Ah? Oh, cavolo. Sono morto. Vabbè, però sono un imbecille. Cosa hai fatto? Dimmi, dimmi qual è quello che dobbiamo fare. E devi usare l'elitra con il razzettino. Purtroppo l'ha capita troppo tardi. Mi sono schiantato. Io non le so usare queste cose. Cosa devo fare con il raggio e l'elitra? Usarlo per andare più in alto. Se fai il tasto destro ti fa volare tantissimo. È fallito. Finito il turno, andiamo avanti. È il turno di Steph. Perfetto. Allora, io ero qua, raga, se vi ricordate. Mi ero mosso giusto per guardare a Fere, giusto? Sì, perché avevo fatto così. Ok. Quindi, dadi, opla, attenzione, due. Uno, due. Vabbè, da Niptax a Niptax. Siamo ancora in pareggio, comunque. Eh, ce la stiamo contendendo. Beh, perché facciamo schifo ai miei giochi. Oh, torna indietro di cinque caselle, Steph. Ciao, finalmente ti vedo. No, ho perso pure un punto. Non ci credo. Mi dispiace. Vai. Tiro. Tre. Tre. Uno, due e tre. Dove mi porta? No. Dove mi porta? Devi fare fine del turno. Lo so? No. Dove sono? Pioventi di te? Sì. Wow, strabello. Allora, la direzione è da questa parte. Meno male che ha messo le frecce. In effetti è stata un'ottima idea. Mi sei ripersa venti volte. Tre. No. No, via. Cinque, sei, sette e otto. Non ti voglio. Vai, Fairo, tocca a te. Ma di vita nella stessa casella. Dai, ma sei in vantaggio. Uno, due, tre, quattro e cinque. Un punto. Ma no. Sì. Ma no. Sei a quattro. Tu hai perso un punto. Come hai fatto a perdere? Sì. Se finisci in rosso. Uno, due, tre. Allora, un bel evento, dai. Dammi due punti. Uno, due e tre. Ok, ok. Ma è una gioia. Ma è una gioia. Ok. Vai, Fairo. Tiriamo. Ora fa dodici. Me lo sento. Vabbè, senza l'uno. Name tag, però. Vai. Aspetta. Ok. Cosa dobbiamo fare? Non l'ho capito. Mi ha detto, hai ucciso il drago, guadagni due punti. Si è flippato. Non sento quello che dobbiamo realmente fare. Ah. Eh. Ci dobbiamo mai trovare qualcosa nelle case. Può essere. Però abbiamo dieci secondi, Fairo. Eh, vabbè, altrimenti zero punti, Staff. In effetti le istruzioni non sono state le picchiere del mondo. No, non ce le ha dette proprio. Si è flippato il messaggio, capito? Sì, eh, vabbè. Dai, 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 dai. Nulla. Niente, niente. Non riesco a capire, non c'è niente. Secondo me dovevo trovare tipo il vero villager, una cosa del genere. Ok. Io sono bloccato. Eh. Dice che tocca a me, ma non sono dove sei tu. Io sono ancora nel villaggio. Anche io. Rieccoci, speriamo di averle zaccato le posizioni, perché se era flippato tutto, siamo dovuti tornarene qua. Allora, devo ritirare il dado e ho rifatto undici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Evento randomico. Oh, grazie, Staff. Molto gentile. Molto, molto gentile. Grazie a te. Perché era verde? Non lo so. Io dico, mettimelo rosso. Allora, uno, due, tre e quattro. No, altro evento randomico. Allora mi restituisci il punto, grazie. Fai da brava. Ok. Drop down, drop down, drop down. Deve essere più macifere. Non avevo capito. No, 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 no. Io ho dei dropper. L'ho fatto? No, non credo. Sì, mi sa che ce l'hanno entrambi. Ma io mi sono mezzo schiantata. Anche io, eh. Mi sono mezzo schiantata e poi l'ho fatto. Non lo so. Vai. È stato un po' gentile. Dodici. Perché? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Sempre random event. Ok. Allora, questa volta so come sopravvivere. Devi girare in tondo, devi girare in tondo. È la cosa migliore. Altri dieci secondi. Devo recuperare quattro punti. Perché c'ho più sfiga di fede oggi. Ci volevo buttare di sotto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Però questo è semplice. Cioè, alla fine non ti fanno così tanto male. Quindi, che se ne frega. Vabbè, vabbè. Ok, quindi devo fare fine turno. Opla. Vai, Fede, tocca a te. Tiro. Io praticamente non vedo qui. Sei. Vabbè, è un numero. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Niente. Casella vuota. Vai, tocca a te. Tocca a me. Vediamo un attimino. Tre. Uno, due, tre. Random event. Come sempre. No. Io non sono mai riuscita a sopravvivere. Anche io. Allora, se sto qui. Niente. Niente. Ero anche concentrata in super silenzio. È impossibile. È troppa. Ne cate troppa. Dove devi andare? Guardate. È troppo. Fatti, guardala. È complicatissimo. Come fai? È impossibile. Vai, Fede. Devo andare da questa parte, ok? Otto. Forse fa completa la salita. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Altro evento. Quanti eventi, Steph, eh? Vediamo. Questo è il più brutto in assoluto. Aia. 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 Fede, mi stai inseguendo? Sì. Cercando di ucciderti. Però non ha senso. Ci prendiamo tutti i punti. Cadi di sotto, maledetto. Infame che non sei altro. Aia. Buttatela giù. Buttatelo giù. Niente. Sono quasi morta, porca miseria. Meno male che non hai continuato, Steph. Meno male. Tocca a me. Uole. Vediamo un pochino. Due. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Random event. What? Ok. Ok, non cadere dalle piattaforme. È pieno di ragni. Dobbiamo resistere 20 secondi, ok? Ho capito. Corri piccolo, Steph. 15 secondi. No, 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 no. Io non vado dove sta Steph che ha i ragni brutti dietro. Ma te cadere a ferie, per favore? A me non seguono. Ok. Hanno seguito tutti te, quindi la cosa positiva è quella. Che male. Però non aveva capito che bisogna finire la mappa. Come bisogna finire la mappa? Sì! No! Ho recuperato un punto! Infatti mi sembrava strano che dovessi andare solo dritto. Vabbè. Sono arrivato a un secondo dalla fine, Fere. Un secondo dalla fine. L'ho visto, l'ho visto. Cinque. Due. Tre. Quattro. Cinque. Random event. Questo l'abbiamo già fatto. Come facevi a saperlo? Perché non è random. È in base alla casella. Ah, ok. Uh, questa volta mi sto uscendo perfetto. Comprendo. Ma io ho palesemente preso solo la roccia, ve lo dico ragazzi. Va bene, va bene. Voglio essere onesto, ma tanto l'avete visto meglio di me. Io lo prendo sempre il bordino, eh. Uno, due e tre. Mannaggia, oh. Mai che mi capita un punto. Via! Dai, lo recuperano anche da tre. Cinque. Uno, due, tre. Quattro e cinque. No, finisco qua. Finisco qua. Per uno, però. Vai. Vediamo un bel numero. Tre. Uno, due e tre. Finalmente un altro punto. Ale, ale. Meno due, Fere. Meno due. Voglio un uno. Dodici. Va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Evento. Ok. Survive the monument. No, no, no. Ci sono un sacco di mostri brutti. Ma si muore negati? Io non so come si sopravvive a queste cose. Devi trovare queste pozzette d'acqua. Che male. Che male. Qui, 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 qui. Fanno tantissimo danno. Cinque, quattro, tre. Due. Dai che ce la faccio. Ti prego. Sono morto. Davvero? Sì. Io ce l'ho fatta. A un secondo. Io ce l'ho fatta. Non ci credo. Io ce l'ho fatta. Infatti ho fatto un punto. Non ci credo. Perché dovevi trovare quei posti dove respirare, però prendevi tantissimo danno. Sei. Sette, otto. Sì, recuperate il tuo punto. Allora, tiri i dadi. Sempre due. E vabbè. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Sono due caselle di name tag, quindi una per forza mi toccava. Ah, di nuovo quello di prima. Questa volta so come si fa. Io non lo so. Non ho il raggio. Anzi, sì, ce l'ho. Come lo tiri? Tasto destro. E poi? Ok. E ora? Non funziona. Non ho volato. Ce l'hai fatta? Sì. Io sono caduta. Però poi? Ce l'ho tirato il raggio, ma non ho combinato nulla. Ah, devo arrivare tipo lì? Buonanotte, ma è difficile. Vabbè, raga. Non la so fare la meccanica, Steph. Del raggio, del litro, o me frega nulla. Vai. Tocca a me, vero? Sì. Ma era difficilissimo anche se arrivi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Nessuno è mai finito in una cosa che fa tornare indietro. L'ho detto a posto in questo momento. Bravo. Proprio. Adesso ci finirò io. Tutto fatto a posto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Vabbè, niente. La smetti di scappare? No. Maledetta. Che poi penso sia una noia contare, però se non le conto queste caselle, quando sono tante, mi perdo. Bene. 13 a 12. Come hai fatto? Hai preso un punto random? Massimo maledetto. Tre. Tre. Uno, due, tre. Evento inutile. Di cosa c'è? Cosa voglio inutile? Perché non è sempre inutile? Dungeon run. Cos'è? Ma come fa uno a sopravvivere qui in mezzo, scusate? Correndo come un matto. Ma non è umano. Uccide a te, Steph. Uccide a te, Steph. Uccide a te, Steph. Vi prego, prendete. Ho vinto. Ho vinto, vero? Sì, ho vinto. Ho vinto. Vai. Sono molto entusiasmante. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E io continuo a recuperarlo. Ti prendi i punti quando poi fa schifo le minigiochi. Non lasciami stare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Cos'è? La mia tela. Di quanto devo tornare indietro? Devi premere finiturno. Penso che lo faccio a finiturno. Sì. E dove sono? A casa tua. Dove sono? Quanto dove sono? No, no, ma dai, non è legit questa cosa, non è legittimo, Steph. Ma fammi tornare indietro di tre caselle. Accidenti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. A questo punto, se fossimo nella vita reale, avrei lanciato tutto il gioco da tavolo in terra. Lo lanciamo insieme per terra, Steph. E dici? Uno, due, tre, quattro e cinque. Scale. Dai. Scale, scale. Dove sono? Uh, beh, più o meno sono finita dove stavo prima. Perfetto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Questo evento non l'abbiamo mai fatto. Pronta? Vai. Ah, che triste. Sono primo. Pensavo anche che dovesse capitare qualcosa. Ah, ma sono primo, cara. Dodici. E va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Casella rossa. Un punto ho perso, sì. Due punti di distanza. Ma come hai fatto a superarmi che fai sempre schifo? Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E ti dico di più, tre punti in vantaggio per lui. Vediamo, vediamo. Si è già capito il vincitore. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sì, ma ho perso un altro punto. Aia. Aia. Sta succedendo ciò che accade di solito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Evento randomico. Tre, due, uno. Ok. No, dai, vi prego. Io non l'ho capita sta roba. Nenche io. Io non l'ho capita. Ah, dovrebbe partire da lì probabilmente. Raga. Ma io sono caduta in terra come una pera. Anche io. Non lo so fare. Io lo ammetto. Non lo so fare. Faccio schifo in questa meccanica. Non l'ho mai provata, non la so fare. Non ho capito neanche come dovrebbe farmi alzare in alto il fuoco d'artificio. Perché ti fa più. Ma io lo volo. Non faccio quel più. Il problema è che io guardo i video e poi non lo so fare. Esatto, se sta cosa. Finisci il turno. Vai, Fer. Ma che dice hai finito? Abbiamo finito, sì. Io non vedo. Sette. Sette. C'hai vinto? Uno, due, tre. E sono finite le caselle. Ah. Ho finito. Però è vincito. E ti ha dato dei punti, però hai visto quanti punti? È quindici. Sono comunque sotto. E quindi? Non lo so. Ah, ok. Ti ho finito il turno? Sì. Mi dice che ha vinto la persona con più punti. Quindi penso di non aver giocare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Cioè se io finisco il turno, ritocca... No, no, no. Praticamente chi arriva, finisce il gioco e si contano i punti. Tutto lì. Ok, carino. Alla fine ho perso. Vabbè, no, io ho vinto. Sconfitta pesante. No, ho vinto. Ai, ai, ai. Te lo dico già, ho vinto. Va bene, bene. Hai vinto, tu complimenti. No, ho vinto, ho vinto, ho vinto. Regà, bellissimo sto gioco da tavolo. Veramente super fantastico. Molto divertente. Speriamo che vi sia piaciuto, ma è veramente bello per essere bello. Già un busto. Whee! Whee! Perché non ce l'ho? Whee! Whee! Anche la speed. Grazie mille per aver visto il video. Noi ci fermiamo così. Qua sotto questo video per altri video iscriviti al canale e al cappellino. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!